Sono state presentate nella Sala Consiliare del Comune di Pordenone due importanti rassegne estive, Pordenone Live e Pordenone Blues Festival, entrambe ospitate al Parco di San Valentino, spazio verde nel cuore della città, palcoscenico della musica e dell'intrattenimento di giovani e meno giovani. Da fine giugno a fine luglio un mix di concerti, di icone della scena rock mondiale e di star del panorama pop e rap italiano restituiranno a Pordenone il suo ruolo storico di punto di riferimento nazionale della musica. Pordenone si conferma come una città attraversata da fermenti culturali straordinari, una rete associativa ricchissima che offre festival, iniziative culturali, teatrali, musicali, di poesia. Tutto questo è stato coordinato dal Comune per offrire le opportunità a chi vive a Pordenone di stare insieme, di avere relazioni, occasioni di uscire, di poter godere della città, ma anche come elemento di attrattività turistica ai grandi concerti, chiamare migliaia di persone che conoscono Pordenone completamente messa a nuovo per offrire opportunità di svago ma anche di approfondimento culturale a chi di Pordenone non è. Ecco, ci auguriamo non polemiche, ingenerose, sciocche e stupide, ma una città unita per promuovere questo biglietto da visita. Ne va a giovanimento non tanto l'amministrazione ma del nome di Pordenone. Tornano i grandi concerti al Parco San Valentino. Quest'anno più che mai è una proposta molto assortita. Si va dalle leggende del rock agli idoli dei giovani del pop e del rap. Ed è un po' lo specchio dell'estate a Pordenone, cioè un programma assolutamente calidoscopico che cerca di soddisfare i gusti di tutti e che non ha paura, per così dire, di unire il sacro al profano. Il tutto si inserisce appunto nel grande contenitore dell'estate a Pordenone che coinvolge tutta la città rivitalizzando, oltre al Parco San Valentino dove si svolgono questi concerti, anche un po' tutti i luoghi di Pordenone, dalle piazze ai parchi, ai palazzi storici. Abbiamo puntato su questo format e il 18 luglio avremo Silem Bob e Sikbud, il 19 è Mischilla, il 21 è Tananai che è l'artista dell'anno e il 23 la collaborazione di radio Peter Pan arriva al branco a ingresso libero. Sarà una serata con parecchio movimento di giovani, oltretutto con l'ingresso libero ci sarà come una grande festa finale. Siamo orgogliosi di presentare il 32esimo Pordenone Blues Festival con nomi di altissimo livello. Troveremo appunto i Deep Purple il 30 giugno, i The Cult il primo luglio, Strangles, Budscock e Razza DC, una serata dedicata alla musica punk il 2 luglio. Poi il 3 luglio siamo in collaborazione con Cinema Zero e presentiamo appunto la nuova remake di The Animal House per arrivare a martedì 2 luglio con Airborne e Royal Republic, mentre mercoledì 5 ci sarà Norman Baker, uno degli otto musicisti inglesi nella Blues of Fame, per chiudere poi il giovedì 6 con il Blues on the Road con ben 25 concerti che si svolgono dalle 18 alle 23.30.